L'ultimo per ora ad arrivare in provincia di Varese, ma unico nel suo genere, è l'hub vaccinale che il comune di Saronno ha allestito all'ex scuola Pizzigoni di Via Parini. Questa mattina la presentazione della struttura da parte del sindaco Augusto Iroldi, presente con la giunta e con i rappresentanti dei medici locali, che poi si occuperanno delle vaccinazioni a partire da lunedì mattina. Possibile attivare 5 linee vaccinali, sino a 690 vaccinazioni al giorno, ma per ora ci si fermerà attorno alle 400. Ma perché il centro di Saronno è unico? Perché è anche un museo temporaneo. Per arrivare alla palestra, dove si fanno i vaccini, si percorre infatti un corridoio dove, al pari che nella palestra stessa, sono state posizionate riproduzioni delle opere d'arte del bellissimo santuario della Beata Vergine di Saronno e in particolare del Concerto degli Angeli, l'opera di Gaudenzio Ferrari. Previsti anche momenti culturali per incoraggiare gli anziani che si vaccineranno nei prossimi giorni. Ci saranno musicisti del Conservatorio di Milano con concerti dentro e fuori dal centro vaccinale. Grazie. Grazie.